Buongiorno a tutti, mi chiamo Giovanni Donatiello, sono condannato alla pena dell'ergastolo. In questo periodo sono stato toposto al 41 bis, il cosiddetto carcere duro, per ben 8 anni, dal 92 al 2000. Oggi Giovanni Donatiello è un uomo libero. Dopo una condanna all'ergastolo per omicidio e associazione mafiosa e 32 anni trascorsi in carcere, ha ottenuto la libertà vigilata grazie a una sentenza della Gran Corte Europea di Strasburgo che di fatto esclude il carcere a vita. Donatiello non è un personaggio qualunque, con il soprannome di Cinque Lire è stato uno dei fondatori della Sacra Corona Unita, luogotenente del boss Pino Rogoli e a sua volta referente per Mesagne. E' il primo fra i capi storici della SCU, quasi tutti condannati all'ergastolo, a tornare in libertà. Il suo rientro a Mesagne non è passato inosservato. Aveva lasciato in manette la sua casa nel 1986 quando aveva 25 anni e vi aveva fatto ritorno solo una volta scortato da decine di poliziotti per una visita al cimitero dopo la morte di un congiunto. Negli ultimi anni alcuni collaboratori di giustizia hanno continuato a indicarlo come punto di riferimento della mafia mesagnese. Per questo motivo la sua libertà sarà monitorata costantemente dalle forze di polizia. Donatiello, che non si è mai pentito, sembra aver iniziato da tempo un percorso nuovo. In carcere si è iscritto all'università ed è diventato redattore di un giornale nazionale per i detenuti, tenendo conferenze e incontrando studenti e insegnanti. Ora, a 57 anni, in ottime condizioni di salute, ha l'esperata possibilità di ricostruirsi una vita fuori. Lavora in una carrozzeria, continuerà a studiare e magari tenterà di riabilitarsi definitivamente, nella speranza che 5 lire non torni mai più.